Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo video post partita, il primo video post partita della prima giornale di Serie A 2020-2021. Sassuolo Cagliari, finita con il risultato di 1-1, almeno non abbiamo perso, che direi che è già un passo in avanti rispetto al filotto delle prime giornate degli ultimi anni, direi che questo è veramente tanta tanta roba. Mi sono appuntato come al solito alcune cose, la prima che mi sono segnato, nel primo tempo abbiamo decisamente regalato troppi, troppi palloni, veramente palloni totalmente regalati, alcuni passati anche in maniera abbastanza plateale o rocambolesca. Ci si aspettava di meglio, mettiamola così. Poi, una cosa che a me non piace, ma è una cosa del calcio moderno che si sta sviluppando negli ultimi anni, specialmente dall'anno scorso, che l'hanno reso possibile, sono i passaggi corti dentro l'area del portiere. È una cosa che a me non piace, la trovo abbastanza rischiosa, abbastanza inutile e capisco che nel gioco di Di Francesco, ovvero nel costruire il gioco partendo dal basso, questa cosa sia fondamentale. E capisco anche che, comunque, parliamo se è chiaro, Cragno c'è un motivo per cui gioca in porta. Si vede che non ha, intanto sto grondando, si vede che non ha i piedi perché proprio non ce li ha, quindi ci sta anche passare dentro la propria area. Però, non lo so, non lo so. Poi, un Cagliari che nella prima parte del primo tempo ha lasciato veramente molto a desiderare perché l'unica squadra che c'era in campo era il Sassuolo, era decisamente il Sassuolo. Il Cagliari, nella prima parte del primo tempo, era totalmente assente. Dopo 20 minuti, all'incirca, si è cominciato a rodare un po' la squadra e c'è stata qualche sortita offensiva. Tra tutto mi è in mente un tiro di Nandez, mi è in mente l'ultima parte del primo tempo, qualche occasione da parte di Simeone, specialmente il colpo di testa, qualcosa è uscito fuori. Poi ho notato che nei passaggi nello stretto il Cagliari fa molta fatica. Nel senso, quando venivano fatti gli 1-2, generalmente il primo giocatore che faceva il passaggio, poi quando doveva ricevere il secondo passaggio, quasi mai riusciva a prenderlo subito. Non è un buon segnale, per carità, bisogna ancora trovare il feeling con il gioco di Francesco, bisogna, comunque stiamo al 20 settembre, bisogna aspettare comunque qualche altro nuovo acquisto. da parte della società, che sicuramente arriverà per cercare di fare in modo che il gioco di Francesco sia più funzionale possibile alla squadra. Però per quello che si è visto oggi, e potrebbe essere anche un caso, ovviamente, diciamo che c'è qualche pecca non indifferente. Poi, il secondo tempo è stato giocato decisamente meglio, ma decisamente meglio rispetto al primo, anche se qui ci sono stati dei grossi, grossi problemi. Quindi, a livello proprio di gestione dell'avversaria, non siamo riusciti a gestire bene il Sassuolo, avevano sempre il pallino del gioco. C'è da dire che il pareggio è il risultato più giusto, perché in questo caso, nel Cairi, nel Sassuolo, avrebbe meritato la vittoria. L'1-0 era un risultato ingiusto per noi, come la vittoria del Sassuolo sarebbe stata ingiusta, perché comunque il Sassuolo si è attenuto il pallino del gioco, si è concluso di più, perché ha fatto più conclusioni di noi, ma comunque non ci ha mai dato troppe, troppe preoccupazioni. Il gol purtroppo è avvenuto sul calcio piazzato, una bellissima punizione da parte di Burabia, e lì c'è poco da recriminare, perché quando entra una palla così, devi solo farti una ragione. Però, comunque, sulle sortite offensive qualcosa di buono si è visto. L'unica grande pecca è lui, è lui. Ditono insieme, 1, 2, 3, Faragò. Ragazzi, non se ne può più. A me la cosa che mi fa sorcire il naso è il fatto che il peggiore in campo abbia fatto 90 minuti, perché poi, quando è entrato Zappa, Faragò si è spostato a fall'esterno, cioè a fall'esterno, a falla mezzala, a falla mezzala a destra, e anche da lì non è che abbia fatto chissà chi, ha fatto un tiro, che vabbè, lasciamo perdere. Ma anche da lì non è che abbia fatto qualcosa di buono. Ragazzi, a me mi dispiace col cuore per la persona, perché si vede che è una brava persona, ma a livello di giocatore non possiamo andare avanti. Non possiamo andare avanti. Io, se fossi io la società, dopo una prestazione simile, è brutto da dire, mi dispiace, ma io riscinderei il contratto. Perché non è possibile, non è possibile. Ah, poi l'ammunizione subito, per carità lì, devi evitare che Araslin dipende in contropiede, però, fio mio, non te puoi fammoni al decimo del primo tempo. Eddaiso, ma un po' di intelligenza. Non lo so, questa partita mi lascia un sapore agrodolce, non so quali sensazioni avete voi. Mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ora, testa la Lazio, e ricordiamoci che comunque questa era la prima partita, e l'abbiamo quareggiata. Sul gruppone c'avevamo soltanto tre amichevoli, due con l'Olbia, quindi bisogna anche dire che effettivamente il rodaggio vero e proprio avverrà col campionato, per forza di cose. Quindi, incrociamo le dita che tutto vada bene. Il video finisce qui, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella! Ciao!